Alla fine questo giro sta iniziando adesso Eh io sono un po' a difficoltà dietro a 41 Stavo a pensare che forse un altro giro lo potevo pure fa' ma non so se conviene Eh io mi devo fermare adesso però Ma che che che? Io sto a 51 Eh ferma da allora no Infatti mamma è ferma Corolla è fuori Corolla è fuori Sta entrando? Sì Vedi se ti conviene cambiare l'ala se fino a mai guidato bene non la cambiare Quanto ci mette 5 secondi a cambiare l'ala? Eh sì forse un po' meno Vabbè ho tirato dietro da 17 secondi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tieni duro Il distacco dalla vettura che ti precede è 8,7 secondi Fai il tuo passo perché pure Tars c'ha penalità eh se gli arrivi in quota lo passi Pure che non lo passi c'ha 3 secondi quindi sta girando pianissimo lui lo raggiungi C'è il giro piano? C'è la la rotta C'è la la rotta E' la la rotta E' la la rotta E' la rotta Ma anche c'è la rotta E' la rotta 57-58 Ottimo E vai Gli è andato lungo una volta Non si è andato lungo una volta Che l'hai passato no? Oh mi raccomando attento l'ultimo giro